Sarà un campionato duro e stressante. La novità principale del Girona F di Serie D non è tanto la presenza del Cesena come big del raggruppamento anziché il Bari, quanto il fatto che ci sono 20 squadre, il che vorrà dire ben 38 giornate di campionato. Se si considera che per i ben noti motivi l'inizio del torneo è addirittura slittato al 16 settembre, ecco che gli impegni saranno ancora più compattati con un cospicuo numero di turni infrasettimanali per consentire la chiusura della stagione regolare a maggio, così da lasciare spazio a play-off e play-out. Per questi dettagli bisognerà attendere il prossimo 8 settembre, quando saranno diramati i calendari all'indomani delle sentenze del Collegio di Garanzia del CONI. Il 13 settembre, peraltro, si pronuncerà anche il Tar del Lazio, circa il ricorso del Sant'Arcangelo, squadra del Girone F che però chiede la riammissione al campionato di Serie C. La compagine Clementina, lo scorso maggio, subì una penalizzazione che permise al Teramo di salvarsi e impose loro il play-out col Vicenza che ne sancì la retrocessione. Dunque non sono esclusi altri colpi di scena. Il Bari-Centro del Girone F si sposta a nord, dopo la ridda di voci che paventavano l'inserimento di tre pugliesi, tra cui il Bari di De Laurentiis. Invece la nobile decaduta è il Cesena, che è ripartito con una nuova società, la quale, per ottenere l'immediato inserimento in Serie D, ha effettuato la fusione con il Romagna Centro, con pagine cesenate già militante nella quarta serie. Guida tecnica affidata all'ex Sant'Arcangelo Giuseppe Angelini, che avrà come vice e preparatore dei portieri Francesco Antonioli, ex estremo dei Romagnoli, oltre che di Milan e Bologna, e scudettato con la Roma di Capello. Nella rosa, finora allestita, spiccano il centrocampista Davide Biondini, una carriera in Serie A, in particolare con le maglie di Cagliari e Sassuolo, e il capitano Giuseppe De Feudis. In attacco il gigante Ricciardo, ex Fondi e Melfi, e gli esterni Alessandro e Tortori. In rosa anche il figlio d'arte Daniele Bisoli, fratello del Bresciano Dimitri. Ha lasciato Cesena Emanuele Cascione, che ha firmato con il Sant'Arcangelo. Cinque le Romagnole, oltre a Cesena e Sant'Arcangelo, un'altra decaduta dai pro, il Forlì, e poi San Maurese e Savignanese. Sei le rappresentanti marchigiane, le ambiziose Matelica e Recanatese, la Outsider Sangiustese, la Ripescata Iesina, Castelfidardo e la neopromossa Montegiorgio. Stavolta quella marchigiana non sarà la rappresentanza più folta, perché sono sei anche le abruzzesi, quattro di loro punteranno ad un campionato ambizioso, Avezzano, Vastese, Pineto e Francavilla. Obiettivo salvezza per la neopromossa Real Giulianova e per il San Nicolò Notaresco. Tra le rappresentanti molisane, al Campobasso e all'Olimpio Agnonese, ripartita nonostante qualche grana societaria, si aggiunge la matricola Isernia.